ben trovati secondo video di questa rubrica inaugurata la scorsa settimana in cui parliamo brevemente delle notizie principali riguardanti la squadra del lecce dunque nella giornata di ieri i salentini avrebbero dovuto disputare la prima gara del nuovo anno solare ma così non è stato a causa del rinvio disposto dalla lega b per l'alto numero di contagi nella rosa veneta si sta ragionando ora su quando far disputare finalmente il match che ricordiamo era già stato rinviato lo scorso 20 dicembre nel frattempo la squadra di marco baroni prepara la trasferta di pordenone in programma domenica alle 16 e 15 sul fronte calcio mercato e abbiamo parlato la scorsa settimana dire alcune possibili operazioni in entrata del lecce in primis riguardo il reparto avanzato stando agli ultimi alle ultime indiscrezioni raul asenzio dovrebbe arrivare a breve nel salento e mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà al club di via colonnello costadura il giovane attaccante spagnolo dovrebbe essere il vice coda ricercato dai giallorossi non è una priorità invece l'esterno non non sarà acquistato come come ha detto pantaleo corvino la scorza l'altro giorno durante la presentazione di paolo farago quindi rettifichiamo quanto detto la scorsa settimana paolo farago appunto proveniente dal cagliari centro centrocampista mezzala che il tecnico del lecce marco baroni conosce bene avendolo già allenato a novara in difesa poi si cerca un profilo che possa completare appunto il pacchetto arretrato dopo gli addi di biarnason e meccariello contestualmente l'area tecnica lavora per piazzare gli esuberi quei calciatori che non fanno parte del progetto tecnico del lecce dunque questo è tutto ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video